Voglia di correre e divertirsi in compagnia respirando l'atmosfera magica del periodo natalizio. Oltre 500 babbi natale hanno colorato domenica Piazza dei Martiri in occasione della sedicesima Santa Claus Running, iniziativa promossa dalla società Dolomiti PSG, capace di arricchire e di impreziosire il ventaglio di proposte natalizie del capoluogo. differenti le tipologie di percorso, fra mezza maratona, 12 chilometri competitiva e non e 5 chilometri. Questa edizione della Santa Claus che torna a Belluno dopo due anni, tra lockdown e restrizioni, è bellissimo vedere tutti questi babbi natale, questo serpentone rosso che attraversa le strade della nostra città, un'occasione anche di visibilità per Belluno. Ad imporsi, in particolare nella mezza maratona, il 22enne moldavo Mihail Sirbu e in campo femminile la bellunese Simonetta Selle, fra i partecipanti anche una ventina di rifugiati ucraini e nonché gli studenti e professori dell'Istituto Comprensivo di Brunico. Nella nostra scuola ci sono tantissimi alunni che provengono dal Cadore e il senso di venire e partecipare a questa gara e anche dare la possibilità alle famiglie del bellunese di partecipare e incontrarci, quindi dare un segnale a loro nel senso che una volta ogni tanto, una volta all'anno, è la pusteria che si muove in direzione del Veneto. Soddisfatti dei risultati raggiunti, gli organizzatori guardano già al futuro. Direi un bilancio più che positivo e chiaramente l'appuntamento è per la prossima edizione, quindi è a seconda domenica di dicembre 2023.